Le 7 del mattino di martedì 19 settembre, buongiorno, benvenuti all'edicola. La stragrande maggioranza dei giornali italiani questa mattina titola ancora sull'emergenza immigrazione, sui provvedimenti assunti dal governo nel Consiglio di Ministro di ieri. Solo alcuni scelgono invece di mettere l'accento nei loro titoli di apertura sugli altri provvedimenti, segnatamente le norme che riguardano la circolazione stradale, ma non solo, il codice della strada in generale e le novità che riguardano la scuola. Le vedremo fra un attimo, ma prima ci concentriamo appunto su quello che riguarda l'immigrazione e vi voglio far vedere i giornali che danno una sottolineatura più critica di questa scelta. Uno di questi per esempio è Avvenire, il giornale della CEI, che parla di ennesima stretta, è evidente quindi insomma che il giudizio già non è particolarmente positivo, viene subito evidenziato come sia stata varata appunto questa linea dura dei CPR, dei trattenimenti fino a 18 mesi per i migranti irregolari e subito a fianco al titolo di apertura anche un'intervista a Letizia Moratti che dice che non solo chiusure servono formazione e più partnerariati. Poi andremo a vedere, c'è anche un editoriale molto interessante su Avvenire che parla di misure già viste e misure che peraltro si sono rivelate inefficaci, quindi appunto come vi dicevo giudizio già molto chiaro su questo. Altrettanto è quello che scrive Domani per esempio, che però accentua diciamo così anche l'aspetto del conflitto politico che in tutta questa vicenda abbiamo già visto ormai da giorni fra Meloni e Salvini. E allora eccolo qua il titolo di Domani, Migranti Salvini mette in riga Meloni, la stretta militare non servirà a nulla. Secondo il Domani è fallita la via diplomatica, il governo prova quella muscolare, norme disumane e inefficaci. Quindi un giudizio pesantissimo. Molto simile il titolo della stampa, non vale la pena di guardarlo. Il giornale lo vedremo fra un attimo perché ha invece una notizia, una novità. La novità è questa, che sarebbe in preparazione in Piemonte uno spot, vedete, spot in Africa. Non venite qui, ci racconta questa iniziativa il giornale. Pubblicità TV e radio del Piemonte in Senegal per dissuadere le partenze. Messaggi della Premier alle ambasciate. È un'iniziativa interessante, poi andremo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Libero è invece assolutamente a favore di queste norme, ma la sottolineatura nel titolo è molto più politica ed è di attacco, come vedete. Eccolo qua. Il PD ha un piano, prima gli scafisti, invito ai migranti. È evidentemente un paradosso, una sottolineatura, ma così viene presentato invece il contropiano di Elish Line. Questo documento in sette punti che al giudizio di Libero è appunto una sciagura, mentre invece Palazzo Chigi travara appunto la stretta sulla permanenza degli hotspot. E ancora vi volevo far vedere, eccola qua, mi era finita sotto la verità, anche qui accenti assolutamente critici, ma al contrario potremmo dire, così la sinistra, però vedete il leitmotiv è sempre quello, il PD, la sinistra. È la sinistra che truffa i migranti e gli italiani. Parlando di accoglienza diffusa e di ius soli, sostiene la verità, i dem, mandano messaggi devastanti agli africani. Quindi si torna, diciamo così, con quel concetto che sarebbe colpa di un'Europa che li attrae e li illude, addirittura poi in questo caso la sinistra, e allora ecco ancora il tema delle donne incinte, convinte di partorire figli col diritto di cittadinanza, l'unica ricetta dei progressisti è la resa. Così sostiene la verità. In realtà di resa vera e propria, però di tutt'altro genere ci parla, la Repubblica, che ha questo titolo di apertura ed enfatizza, diciamo così, quello che sta avvenendo con la Tunisia. Tunisia salta il patto europeo. Syed, il presidente tunisino, pretende che i fondi europei per fermare le partenze non siano vincolati alla realizzazione dei progetti. Per Bruxelles è una condizione inaccettabile. Intanto appunto il governo decreta i nuovi centri per il rimpatrio e via il lavoro delle tendopoli in tre regioni, mentre Tajani presenta alle Nazioni Unite un piano per l'Africa. E allora noi ce l'andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questa notizia che ci racconta Repubblica, con il presidente Syed che dice non voglio veti, naufraga, scusate l'accordo tra Europa e Tunisia. Si tratta per l'appunto di quel memorandum che era stato firmato insieme a Ursula von der Leyen e Meloni, ma anche il premier olandese Mark Rutte, quest'estate, eccolo qua, di questo si parla appunto, dell'intesa firmata a luglio dalla presidente, che si basava su alcuni capisaldi che puntano a stabilizzare i conti tunisini e promuovere le risorse. Un totale di 350 milioni di euro. Il presidente tunisino ci dice però che la Repubblica non accetta condizioni e questo fa il paio anche però con la polemica che era stata sollevata nei giorni scorsi di una procedura non del tutto corretta seguita dall'Europa, polemica peraltro sollevata da Josep Borrell che come sapete è il commissario diciamo così alla politica estera dell'Europa e che aveva fatto sì che per l'appunto questi soldi non arrivassero. E allora se noi andiamo a pagina 5 troviamo per l'appunto qualche dettaglio in più su questa vicenda, eccola qua, perché ce ne parla Francesca Basso proprio da Bruxelles e in realtà sono fonti europee che dicono no ma guardate che in realtà tutti erano stati informati. Il vero tema è che non ci sono appunto scrive Francesca Basso complotti contro l'Italia sui fondi legati al memorandum di intesa siglato con la Tunisia cioè non è che l'Europa non vuole dare quei soldi è che in realtà quei soldi non solo sono legati appunto come abbiamo visto e come ci dice Repubblica ha dei progetti che lo stesso Sayed non vuole diciamo così accettare ma in realtà prima di essere stanziati questi soldi devono essere votati da tutti i paesi europei e quindi le procedure si allungano forse Sayed questa cosa non ce l'aveva ben chiara forse non gli è stata ben spiegata il risultato tuttavia è lo stesso. Intanto invece proprio sui CPR vi dicevo e su questi 18 mesi che sono stati decisi giudizio pesante quello di Avvenire che nota come in realtà il totale degli sbarchi quest'anno sfiori quota 130.000 e dice Avvenire sono molti di più degli scorsi anni a riprova dunque che non era colpa delle ONG perché le ONG non ci sono quindi dice non è vero che è un pull factor cioè un fattore di attrazione e poi dice ancora una cosa interessante a Avvenire resta però che fra il 2015 e il 2017 gli sbarchi avevano raggiunto cifre simili e il paese non è crollato e ce ne siamo quasi dimenticati nel 2022 abbiamo accolto in pochi mesi circa 170.000 rifugiati ucraini di cui 140-150.000 sono ancora in Italia nessuno ne parla giustamente come di una catastrofe quindi intanto il ridimensionamento delle cifre e poi, e ve lo prendo anche invece dalla stampa l'altra osservazione molto critica che fa Luigi Manconi a proposito sempre della decisione di questi 18 mesi Luigi Manconi che dovremmo trovare nella parte degli editoriali spero di essermela segnata abbiate pazienza un attimo ma adesso ve la trovo intanto c'era un'altra cosa che vi volevo far vedere della stampa e cioè i costi perché anche questo non è indifferente eccolo qua allora più voli il doppio dei CPR e tempi dilatati le nuove norme costeranno fino al triplo quindi per i migranti fa il conto diciamo così Francesco Grignetti sulla stampa 60 milioni l'anno di vitto e alloggio mentre i centri di permanenza e respingimenti attivi al momento sono per l'appunto solo 10 vi dicevo c'è questo intervento di Luigi Manconi che vi volevo segnalare e che troviamo a pagina 29 adesso ci arrivo abbiate pazienza un secondo che poi andiamo in pubblicità però eccolo qua perché è importante perché dice Manconi il cuore del messaggio inviato al governo attraverso i provvedimenti in materia di immigrazione consiste in un numero 18 ovvero 18 mesi di intrattenimento dei centri di rimpatrio per gli stranieri irregolari il calcolo che c'è dietro è elementare 18 mesi un anno e mezzo sembrano una misura abbastanza intimidatoria e afflittiva per chi e così l'operazione rivela il suo fondo di vergogna è responsabile esclusivamente di un illecito amministrativo non disporre cioè di un documento valido per l'ingresso e soggiorno in Italia ma l'inganno non si limita a questo quei 18 mesi dovrebbero apparire a un'opinione pubblica inquieta come la giusta sanzione inflitta da un governo finalmente rigoroso ma le cose non stanno così basta ricordare che la detenzione per un anno e mezzo è tutt'altro che una novità andiamo in pubblicità sì Massimo andiamo in pubblicità mi fanno fare gli incendi perché sono le 7.11 poi torniamo e vi faccio vedere ancora un paio di pagine su questo tema e poi invece andiamo a vedere codice della strada e scuola a dopo le 7.17 proseguiamo la nostra rassentina stampa vi dicevo ci sono ancora due o tre cose che vi voglio far vedere sulla questione migranti intanto Libero a pagina 5 sottolinea che in realtà i 18 mesi di permanenza nel CPR sono solo per chi è ritenuto pericoloso e non ha diritto all'asilo in realtà è vero perché il tempo per i richiedenti asilo non è stato allungato ma rimane di 12 mesi quindi non è proprio una passeggiata di salute mentre invece questa questione che i 18 mesi sono per chi è ritenuto pericoloso sono tuttavia molto molto aleatori nel senso che non si capisce bene chi debba deciderlo in base a che cosa e l'altra questione che vi volevo far notare da questa pagina è che diciamo la teoria del complotto la ritroviamo sia a destra che a sinistra ne scrive in questo caso in questo boxino Oara Orselli che Borselli scusate che ci ricorda dice c'è un complotto lo ha scoperto Laura Boldrini un complotto architettato da Orban Vox e Meloni per fare arrivare orde di profughi a Lampedusa lo scopo non è ancora chiarissimo ma la notizia è certa sembra che la Meloni parola di Boldrini aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull'isola così è potuta andare da Ursula von der Leyen per lamentarsi dei profughi e convince la venire con lei a Lampedusa nel frattempo Orban respingeva ogni richiesta di redistribuzione così l'Italia si riempiva di clandestini e tutto ciò danneggiava la sinistra e perché la danneggiava nessuno lo sa al di là di tutto è abbastanza ridicolo come effettivamente il dibattito politico sia limitato veramente a queste accuse ve lo dicevo prima c'è anche sulla verità la sinistra che truffa i migranti e gli italiani ma le accuse di complotto sono spesso reciproche e con questo tema che viene riproposto delle donne incinte che arrivano convinte di partorire figli con il diritto di cittadinanza in realtà come sapete lo Ius Soli non c'è è da un bel po' di tempo fra l'altro che non se ne parla al contrario invece arrivano le donne incinte di solito perché sono state violentate nei centri di detenzione libici magari e riescono ad arrivare più facilmente adesso di prima perché per l'appunto non partono dalla Libia ma partono dalla Tunisia e da lì è più facile arrivare e allora come vi dicevo la notizia di questo spot che viene pagato dalla regione Piemonte per spiegare per ora in Senegal alle persone ai senegalesi che fare questo viaggio è difficile i ragazzi vogliono avere successo per questo lasciano il paese scelgono l'immigrazione illegale ma molti hanno perso la vita altri sono stati respinti è il ritornello di una canzone che accompagna appunto un video che la regione Piemonte da alcune settimane manda in onda sulle principali radio e televisioni del Senegal per scoraggiare i giovani a salire su un barcone e tentare di raggiungere l'Italia perché come ricordo al pezzo musicale ambientato lungo una spiaggia senegalese la vita è preziosa e il mare è pericoloso e per chi ha visto io capitano beh c'è qualcosa di molto vero in quello che viene raccontato qui anche per l'uso della musica poi se avrà successo veramente oppure no lo vedremo c'è anche un'altra storia che vi voglio segnalare alcuni quotidiani la raccontano più di tutti bene forse la racconta il messaggero però rispetto a tutte le vicende drammatiche questo bimbo di tre anni salvato da un profugo un ragazzino anche lui perché anche lui minorenne che dice di aver trovato questo bimbo nel deserto un bimbo di soli tre anni che non parla non sorride non dice niente è scioccato però se ne è fatto carico se ne è preso in mano in braccio e l'ha portato fino in Italia e adesso c'è la gara appunto di solidarietà per averne l'affido l'ultima cosa e poi cambiamo l'argomento invece vi faccio vedere sempre da Repubblica questo piano speciale questo sì davvero molto molto interessante è un'anticipazione di Tommaso Ciriaco un G7 speciale o spot nel Maghreb ecco il piano dell'Italia per l'Africa sapete che Giorgia Meloni è partita per New York dove c'è l'assemblea generale dell'ONU eccolo qua allora questo è il piano italiano di sviluppo e resilienza per l'Africa o meglio un manifesto politico in sette punti per il continente elaborato dal ministro degli esteri e Palazzo Chigi quindi da Tajani e Giorgia Meloni lo anticiperà domani alle 16 a New York al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e diventerà la piattaforma con cui i diplomatici italiani faranno pressione dalle varie agenzie delle Nazioni Unite per provare a dare traduzione pratica a questo indirizzo politico la cosa interessante è che si ammette che per alcune diciamo così di queste politiche ci vogliono anni e tuttavia sono sicuramente forse molto più foriere di successo e portatrici di successo di quanto non siano prove muscolari che abbiamo già visto non funzionano non c'è solo l'immigrazione come vi dicevo c'è anche tutta la questione legata alle novità sulla scuola e sulla strada ne è molto contento il direttore del giornale Alessandro Sallusti a questo è dedicato il suo editoriale codice della strada strada e voto in condotta torna la disciplina così scrive Sallusti che dice non sfuggirà che pur parlando di ambiti diversi c'è un filo che lega i due provvedimenti cioè appunto scuola e strada un filo che arriva dalla stessa matassa quella di un governo che come annunciato vuole riportare un po' di ordine in situazioni che erano sfuggite al controllo non che tutti siano proprio contentissimi di questo ritorno su Repubblica per farvi notare come per esempio a proposito della scuola scrive Chiara Valerio torna dal passato il voto in condotta la scuola si divide mentre diciamo così ci sono meno perplessità per quello che riguarda il codice della strada ma per la scuola andiamo con ordine intanto ieri l'intervento diciamo così per l'inaugurazione dell'anno scolastico del presidente Mattarella ce lo racconta per esempio il Corriere della Sera sapete che Mattarella fra l'altro è andato in Romagna Romagna già colpita non solo dall'alluvione ma in parte anche dal terremoto e ha parlato dei figli di migranti un grande potenziale per il paese questa è stata la sua esortazione intanto poi però ci sono le novità che riguardano la scuola molte sono ben ben dettagliate e non è un caso adesso vedrete perché sul sole 24 ore perché sul sole 24 ore perché si tratta non solo della reintroduzione del voto di condotta ma anche di novità sugli istituti tecnici e professionali ecco il modello 4 più 2 dice infatti il sole 24 ore nel testo varato ieri in consiglio dei ministri oltre alla sperimentazione della filiera collegata agli istituti tecnici anche la stretta appunto su sospensioni e voto di condotta ma quello che dice il sole 24 ore è che dagli italiani era arrivata questa richiesta di una scuola legata di più e meglio al mondo del lavoro e vedremo se così funzionerà io mi immagino già che ci saranno polemiche sul fatto che viene ridotto di un anno la frequenza però poi altra questione da farvi notare invece è quella che riguarda la stretta sulla strada è sempre da sole 24 ore attenzione perché lui in sole 24 ore parla della trappola dei farmaci comuni rintracciabili nei test antidroga alcuni farmaci vi possono far appunto passare per drogati una volta era necessaria la certificazione del medico adesso con questa riforma non lo sarà più quindi rischia anche chi prende un farmaco normalissimo è una cosa da mettere come dire in evidenza e da non perdersi il messaggero invece in tutto questo annuncia anche la novità dell'arrivo di borse di studio eccole qua per i ragazzini dai 13 anni una volta non erano previste ma questo sarebbe invece un ulteriore progetto che sta studiando il governo e del quale si sta parlando poi ci sono un paio di notizie che io vi voglio dare una la prendo dalla prima pagina anzi dalla pagina 2 e 3 di Libero che concentra la propria la propria attenzione anche sul tema economico delle case eccole qua non la prima pagina ma come vedete già nella foto a centro pagina si parla di Christine Lagarde e il tema è la cura della BCE crolla il mercato del mattone grazie Lagarde e si fa notare come ci sia appunto stato eccolo qua guardate questo grafico è chiarissimo un crollo delle compravendite immobiliare dovute ovviamente al caro mutui poi ci sono due storie che vi voglio vi voglio raccontare una la prendo dal Corriere della Sera sapete che all'ONU andrà anche Zelensky ci sono le novità che riguardano il che ci andrà ci andrà appunto che riguardano la controffensiva ucraina di questo sicuramente ci parlerà il nostro telegiornale ma la storia che invece io vi voglio prendere dal Corriere della Sera è una storia di guerra e di pace questo signore Vito Alfieri Fontana da fabbricante di morte a sminatore nei Balcani racconta così Stefano Lorenzetto che l'ha intervistato si fa presto a dire mini anti-uomo quali? ve ne sono di due tipi a pressione e a frammentazione le prime esplodono se vengono calpestate e dilaniano il piede la gamba i genitali le seconde si attivano con un filo di innesco e uccidono all'istante per lo sventurato che vi inciampa meglio le seconde verrebbe da dire se non fossero imbottite di schegge metalliche che feriscono chiunque si trovi nei 10.000 metri quadrati di terreno circostante Vito Alfieri Fontana ex imprenditore di Bari ha prodotto 2 milioni e mezzo di mine quando cominciò aveva 26 anni da un trentennio ha smesso e ha riscattato la sua prima vita da fabbricante di morte con una seconda vita da operatore umanitario di intersosso nei Balcani è una storia bellissima vi consiglio di terminarne la lettura l'altra storia che vi voglio segnalare invece la prendo dalla stampa è una storia che ha un altro lieto fine un po' come questa ed è la storia di Jessica eccola qua la vedete anche raccontata in prima pagina la rinascita di Jessica forse la ricorderete la vicenda di questa ragazza che era giovanissima quando quello che lei pensava fosse il suo il suo amore il suo fidanzato invece per una questione di gelosia e di possesso stupido il solito possesso la sfregiò con l'acido eccola qua sono passati sette anni da quel giorno perché appunto era il 2017 quando lei viene aggredita sotto casa dal fidanzato ieri si è sposata con un ragazzo peraltro bellissimo un campione di equitazione e non ha voluto soldi non ha voluto regali ma appunto soldi da dedicare alle associazioni che si occupano che si battono contro la violenza sulle donne violenza che peraltro continua come ci racconta in una cronaca il messaggero un netturbino che anestetizzava le sue vittime poi le filmava eccole qua drogate e filmate lo stupratore seriale è un netturbino e poi ne parlava con gli amici in chat ridendo queste signore che dire prima o poi cambieranno Ninfa buongiorno ti vedo già in postazione quali sono le notizie della notte? Sì Flavia buongiorno allora parlavi dell'assemblea generale delle Nazioni Unite che entra oggi nel clou Giorgia Meloni è giunta da poche ore a New York prima volta per lei al palazzo di vetro da premier il suo intervento e gli incontri che svolgerà in questi giorni saranno incentrati sul piano per l'Africa il piano che Giorgia Meloni vuole proporre leader mondiali per arginare le migrazioni tema che le sta molto a cuore su cui si è incentrato ieri il consiglio dei ministri lo vedremo nel telegiornale e prima volta a New York al palazzo di vetro anche per Volodymyr Zelensky il presidente ucraino arriva a New York per chiedere un maggiore impegno della comunità internazionale contro l'invasione russa proporrà un suo piano proprio al palazzo di vetro e Zelensky incontrerà poi anche Joe Biden ci sarà un faccia a faccia a Washington con il presidente americano presidente che proprio è notizia di questi minuti ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi alle presidenziali del prossimo anno tutto questo tra pochissimo non prima però di aver dato la linea Paolo Sottocorona Paolo buongiorno buongiorno grazie la quantità maggiore di nuvole al momento in realtà è al centro e al sud anche ieri sono passate ma vi sarete accorti con scarso apporto di piogge però la previsione la linea per oggi in realtà è diversa perché se andiamo a vedere la carta le piogge ci sono previste non molto estese e soprattutto non molto intense soprattutto al nord centro e sud il grigio delle nuvole così come molto è stato ieri ma di pioggi sostanzialmente niente quindi dove adesso sembra che ci possano essere piogge in realtà in giornata ci sarà ben poco questa zona del Trentino Alto Adige qualche pioggia moderata potrebbe averla ma oltre questo non si va giornata di domani continua questa questa situazione ma comincia a assumere come dire un'intensità leggermente diversa perché sulle zone di nord ovest tutte le zone alpine ci sono precipitazioni anche forti quindi lì c'è maltempo veramente poi le altre zone di pianura del nord con piogge deboli qualche pioggia debole o moderata si affaccia anche al centro un po' meno al sud dove prevale solo il grigio però vedete che già è un quadro un po' diverso se arriviamo alla giornata di giovedì vedete che continua questo maltempo al nord forte in Liguria per esempio o poi sull'alto Piemonte sull'alta Lombardia nord-est tutte le zone centrali hanno piogge deboli o moderate ma ce l'hanno e qualche pioggia debole arriva anche al sud peninsulare quindi è un cambiamento non particolarmente intensa ma insomma è un tempo sicuramente diverso quello dei prossimi tre giorni vediamo anche le le minime di questa mattina sempre piuttosto elevate soprattutto al sud e con questo chiudiamo lo stato dei mari è ovviamente per il momento piuttosto tranquillo se volete noi ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Infacola Santo da più tardi grazie